A 26 anni è nativo del Cireale con il diploma di perito tecnico informatico in tasca ma attore teatrale a tutti gli effetti. Lui è Gabriele Vitale. Da qualche giorno a questa parte sta girando la Sicilia in lungo e in largo e si fa immortalare con tanto di fascia dinanzi ai vari palazzi di città. Oggi è stato a Gela, scatti davanti al municipio tra la curiosità della gente. L'obiettivo? È un progetto che nasce col Castello Ursino, appunto c'è una mostra indetta da Vittorio Sgarbi, che è il museo della follia, di Antonio Ligabue. E tra genio e sregolatezza il mio progetto riguarda un collage, speriamo che viene un bel paint a muro, in cui sarò sindaco di tutte, dico tutte, le città siciliane, Palermo, Enna, Acireale, appunto Catania stesso, per nel mio spirito sognare di gestire io la Sicilia ma non da dittatore, ma cercare di migliorarla con i miei sogni, i sogni che possono essere quelli di un ragazzo che cerca sempre speranza e lancio una speranza, quella ai giovani, di non abbattersi mai, di non andare via ma rimanere qui in Sicilia e cercare di cambiare la nostra bella regione. È già difficile governare una città? È difficilissimo governare la Sicilia? Non è difficile se i siciliani partecipano insieme all'amministrazione, cosa che oggi si è vista poco in Sicilia. Mi auguro che questo accada, grandi, giovani, piccini, affinché anche il mio collage possa far pensare ma perché se io fossi sindaco per un giorno, perché non farlo? Ecco, se tu fossi sindaco di Gela, cosa faresti? Ma io non conosco Gela come non conosco Palermo anche se ho fatto la foto lì, devo dire che sicuramente l'occhio vuole la sua parte quindi abbellirei di più con del verde, non me ne voglia il sindaco, non lo conosco, così come non conosco quello di Enna e di altre città della Sicilia però penso stare vicino alla gente come sicuramente il vostro sindaco farà. E cosa ricorderà di questa esperienza di Gela? Sicuramente il palazzo di città perché lo immortalerò in questa mia idea e poi lei che mi ha intervistato e la ringrazio per la gentilezza e aver fatto sì che io potessi esprimere a tutti la mia idea e il mio verbo su questa nuova iniziativa.